Eccoci qui, benvenuti al Marchese webinar numero 2, il metodo del centauro, il mio metodo personale per scegliere con certezza immagini persuasive per le ads. Nel Marchese webinar numero 1 abbiamo visto come si scrive il copy, abbiamo visto 7 template persuasivi per Facebook Ads, adesso ci concentriamo sulle immagini, su come sceglierle, su come modificarle, su come crearle. Quello che fanno tutti infatti è scegliere a caso l'immagine per Facebook, nei casi più gravi come se fosse un qualcosa di cui liberarsi al più presto, come se volessero velocemente cliccare sul tasto pubblico e quindi scelgono l'immagine completamente a caso, senza senso, tanto per sbrigarsi. Vediamo qualche esempio reale di ads che ho trovato che sono assolutamente poco interessanti. Miracle T-shirt, Miracle T-shirt nasce a Milano, dà un'idea dei suoi due soci, Alessi Edmond, a parte il copy completamente poco interessante, anche l'immagine, una semplice maglietta buttata lì, poco interessante, ma il caso più grave è questo Andrea Baltieri, un poeta italiano che ha usato un'immagine con uno sfondo verde e la scritta col suo nome, Andrea Baltieri, opere e poesie 1988, un'immagine che non cattura l'attenzione, non invoglia completamente a cliccare, assolutamente inutile. E il terzo esempio è quello di Iperaste Shop, Aste Online, rilanci gratis e illimitati, anche qui il copy fa assolutamente pena, ma concentriamoci sull'immagine perché loro hanno scelto la Playstation 4 e, pur di mettere questa immagine, l'hanno inserita deformata all'interno dello spazio, sprecando spazio persuasivo prezioso per questa pubblicità. E quindi la reazione che l'utente ha è quella di chi se ne frega, no? Il post viene completamente ignorato, nessuno si fermerebbe a cliccare su post, su immagini di questo tipo. A stati dicessi quindi che esiste un metodo per realizzare immagini estremamente invitanti che catturano totalmente l'attenzione del lettore come un uragano che li travolge? Questo che vedremo oggi con il metodo del centauro. Che cos'era il centauro? Chi era il centauri? Erano creature mitologiche dal busto umano su un corpo di cavallo che, si narra, vivessero nei boschi della Tessaia, una regione dell'antica Grecia. Quindi erano mezzo uomo e mezzo animale e rappresentano uno degli archetipi, metà uomo e metà animale, che tanto si affascinano e avevano fama di essere violenti e litigiosi. E perché quindi il centauro? Perché i centauri simboleggiano il fatto che la nostra natura è animale, proprio come gli animali rispondiamo a certi stimoli in maniera automatica. E il metodo del centauro quindi si basa sulla logica che le immagini devono colpire in maniera istintiva. Adesso facciamo questo esperimento e immaginiamo di far cadere per sbaglio la mano sui fornelli di cucina accesi. Aia, no? Che cosa succederebbe? L'istinto ci risveglierebbe in maniera istintiva e ritireremmo subito la mano perché un fortissimo stimolo di dolore ha colpito il nostro cervello. In quel momento non hai pensato forse è meglio che tolgo la mano da lì perché potrei farmi male. No, al tuo cervello è arrivato il messaggio emergenza, ferma tutto! E non hai potuto far altro che ritirare la mano in maniera automatica. E le nostre immagini devono avere lo stesso effetto. E per parlare appunto di questo discorso, per introdurti questo discorso, dobbiamo assolutamente parlare dell'era dell'attenzione. Già chi ha studiato il mio prodotto PowerCopy lo sa, l'attenzione è la nuova moneta, la cosa più difficile da guadagnare perché siamo bombardati da drilli, da notifiche, da messaggi, dalle distrazioni della vita e quindi la nostra pubblicità deve assolutamente catturare l'attenzione dei nostri lettori. L'attenzione è la cosa più importante. Se riesci a conquistare l'attenzione sei sulla buona strada per monetizzare. E per conquistarla devi scegliere i contenuti accuratamente e lo faremo in base proprio al metodo che scopriremo in questo webinar. E allora addentriamoci nel vivo di questo webinar numero 2. Il concetto numero 1 di cui ti voglio parlare è la Rule of One per le immagini, cioè la regola dell'uno. Nel webinar precedente i 7 template del cappellaio abbiamo già visto la regola dell'uno, la Rule of One, che è per il copy, l'abbiamo applicata nel copy e dice la Rule of One che ogni elemento deve concentrarsi su un solo tema. Quindi quando andiamo a scrivere un copy questo deve focalizzarsi su un solo angle, quando andiamo a parlare di qualcosa dobbiamo focalizzare l'attenzione su un singolo problema, quindi l'attenzione per essere catturata ha bisogno di essere focalizzata, non dobbiamo distrarla parlando di più cose contemporaneamente, più temi contemporaneamente. Quindi ogni elemento si deve concentrare su un solo tema e in particolare se questo tema è power, se è emozionale, la cosa è ancora più potente. Ma come si applica la Rule of One alle immagini? Allora guarda la seguente foto. Ok? Magari hai pensato che è bella foto, no? Perché è una foto molto colorata, con una bella composizione, con vari elementi naturali, senza nessun disturbo. In realtà dal punto di vista di Facebook Ads è una foto che fa totalmente schifo. Schifo. Ecco infatti come la vede il tuo lettore, la vede nel cellulare come questa cosa minuscola qui, assolutamente incomprensibile. Quindi la prima regola del metodo del centauro è scegliere quando possibile un particolare zoomato di una foto. Ecco com'è che applichiamo la Rule of One alle immagini. Quindi andando a scegliere un particolare zoomato. Guarda infatti la differenza tra l'immagine 1, in cui abbiamo delle Airpods della Apple, e l'immagine 2, in cui abbiamo l'immagine che abbiamo visto precedentemente. L'immagine 1 cattura subito l'attenzione della nostra mente ed è molto chiara, si capisce subito cosa sta rappresentando. Mentre l'immagine 2 ha troppi elementi tutti insieme, tutti rimpiccioliti e quindi crea confusione e la confusione fa abbandonare l'attenzione, fa abbandonare la visualizzazione. Quindi come ottimizzare per mobile? A partire dall'immagine principale che abbiamo scelto, ricaviamone un dettaglio, come in questo caso prendiamo il dettaglio di questa mela e la portiamo zoomata come se fosse, la facciamo diventare l'immagine principale. E guarda come avviene la magia. Adesso l'occhio cade automaticamente sul dettaglio zoomato. È molto più interessante, è molto più persuasiva l'immagine della mela ingrandita rispetto a quella delle mele tutte insieme. L'occhio cade automaticamente su questa immagine. Infatti se provi a distogliere il tuo sguardo dal computer, dallo schermo in cui stai guardando e poi a guardare velocemente lo schermo di nuovo, vedrai che il tuo sguardo cadrà sulla mela ingigantita, la mela zoomata rispetto all'altra immagine. Ed è proprio questo l'idea del dettaglio zoomato, della rule of one e dello sfruttare l'istinto per scegliere le immagini. Quindi la tecnica del dettaglio zoomato è la tua prima arma a disposizione che ti fornisce il metodo del centauro. Grazie solamente a questa conoscenza sei già avanti anni luce a chi fa ads e non le conosce perché la tua immagine batterà qualsiasi altra ad che è piena di dettagli confusionari. Riuscirai a battere qualsiasi altro marketer che sceglie le immagini a caso senza un criterio perché adesso tu conosci la tecnica del dettaglio zoomato, quindi della rule of one applicata alle immagini. Questa tecnica è perfetta per il native. Cos'è il native? È la pubblicità che appare alla fine di articoli di testate giornalistiche, di blog che sembra la continuazione, sembra che vengano proposti altri articoli a tema o altri articoli di quella testata giornalistica, in realtà è pubblicità. Questa tecnica è perfetta per il native. Facciamo un gioco infatti, vediamo nelle immagini che seguono, nota quelle che catturano la tua attenzione più di altre, sempre in maniera istintiva. Ok? Quindi vediamo i risultati, almeno per me le immagini a sinistra sono quelle che hanno catturato la mia attenzione. Molto probabilmente tutte o alcune di queste hanno catturato anche la tua. E il motivo è il seguente, tutte sono particolari zoomati o nel caso del cerchio dicono esplicitamente dove guardare. Quindi sono tutti particolari zoomati. L'unica eccezione potrebbe essere quella del cerchio rosso in basso, ma in realtà non lo è perché il cerchio rosso focalizza la nostra attenzione su un particolare ben preciso e dice all'occhio dove andare a guardare. In particolare la parte del corpo zoomata, quella che vediamo in alto della pancia. Quindi se andiamo a scegliere una parte del corpo e la zoomiamo, questo è un mix esplosivo che aumenta sempre il CTR di qualsiasi pubblicità. Non è un caso, forse, che Facebook vieta proprio le parti del corpo zoomate per le sue ads. Quindi quello che abbiamo fatto è interessante, ma come scelgo esattamente l'immagine? Ha il segreto, è lasciar scegliere al nostro istinto animale. Quindi è il nostro istinto che ci deve suggerire quali sono le immagini che vanno bene per le nostre ads. Grazie.